Di Guglio 110 nuovi positivi diminuiscono i ricoverati, torna a salire dunque il numero dei nuovi positivi al coronavirus nell'ASL 4, i ricoveri però scendono sia pure lentamente. Oggi sono 3 in meno di ieri, 115 all'ospedale di Sesterevante con 7 pazienti in terapia intensiva e 4 a Lavagna con 2 pazienti in terapia intensiva. Le sorveglianze attive nell'ASL 4 sono oggi 1096, 15 in più di ieri. Secondo il Presidente di Regione Liguria Giovanni Totti calano gli ospedalizzati e si tratta di un dato coerente col callo dell'incidenza dalla pandemia che si registra a livello nazionale. Al momento i posti letto di terapia intensiva occupati sono molto al di sotto della disponibilità, oltre che dei numeri toccati nella scorsa primavera. Se la tendenza si dovesse confermare, conclude il Governatore, ci potremmo fermare al di sotto dei 1600 posti letto senza andare a intaccare quella dotazione fino ai 2000 posti che avevamo chiesto come sforzo ulteriore al sistema sanitario della Liguria. Questo potrebbe consentire nelle prossime settimane, dice, la chiusura dei primi reparti Covid. Torna a salire il numero dei nuovi positivi al coronavirus nel Tiguglio. Ieri erano 87, oggi 110 di questi. 35 sono frutto di segnalazione al Dipartimento di Prevenzione. 13 sono confermi di tamponi antigenici rapidi già positivi. 11 sono nuovi casi all'interno delle case di riposo. 11 sono contatti di casi positivi e 4 arrivano dalle scuole. I ricoveri però scendono sia pure lentamente nel Tiguglio. Oggi sono 3 meno rispetto alla giornata di ieri. 115 all'ospedale di Sesti Rilevante con 7 pazienti in terapia intensiva. E 4 persone al nosocomio di Lavagna con 2 pazienti in terapia intensiva. Le soveglianze attive nel territorio dell'Asdra 4, infine, sono 1096, 15 in più di ieri. Calano gli ospedalizzati e si tratta di un dato coerente col calo dell'incidenza della pandemia che si registra a livello nazionale, dice il Presidente di Regione Liguria Giovanni Totti. Al momento i posti letto di terapia intensiva occupati sono molto al di sotto della disponibilità, oltre che dei numeri toccati della scorsa primavera. Se la tendenza si dovesse confermare, ci potremmo fermare al di sotto dei 1600 posti letto senza andare a intaccare quella dotazione fino ai 2000 posti che avevamo chiesto come sforzo ulteriore al sistema sanitario regionale. Questo, conclude il Governatore, potrebbe consentire nelle prossime settimane la chiusura dei primi reparti Covid. Da oggi al via il progetto varato da Regione Liguria in collaborazione con le attività produttive e le associazioni di categoria della Regione, che prevede una serie di misure studiate per gli anziani al fine di proteggerli e indurli ad andare a fare gli acquisti nelle fasce orarie che in base alle tipologie di esercizi commerciali sono quelle meno affollate. Dalle 13 alle 16 è previsto lo sconto del 10% su pane e ortofrutta. Nel Tiguglio ciò avviene nei punti vendita Basco di Rapallo, Chiavari e San Salvatore di Cogono e negli Ecom di Rapallo, Chiavari, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure. Possono aderire anche i negozi di vicinato con uno sconto del 5% sugli stessi prodotti. I negozi di vicinato al dettaglio, macellerie, panificio, ortofrutta, se aderiscono, applicano lo sconto del 5% ma nella fascia oraria del primo mattino. I negozi che abbracciano l'iniziativa sono riconoscibili dall'esposizione della relativa locandina. Anche Copp Liguria aderisce all'iniziativa di sostegno alla spesa fuori orario per gli over 65. Copp annuncia infatti una modalità diversa, consegna della spesa a domicilio gratuitamente una volta a settimana a tutte le persone che, come detto, hanno più di 65 anni. Sulla decisione di Regione Liguria e del suo governatore Giovanni Totti di privatizzare una parte dell'ospedale di Nostra Signora di Montalegro a Rapallo è critico anche il meet-up 5 stelle di Santa Margherita Ligure. Tutto questo, dicono i pentastellati san-magheritesi, dimostra il fallimento e l'incapacità di un governatore che dovrebbe ascoltare i cittadini e farne l'interesse e non fare, attraverso gare europee, l'interesse della sanità privata. L'invito, rivolto alle minoranze presenti in Consiglio regionale, è quello di dare pronta risposta legale a qualsiasi atto di vendita che preveda la destinazione ai privati di parte della struttura. Altra mattinata da dimenticare oggi sulla 12 Genova-Sestri Levante, dove il traffico è rimasto a lungo bloccato attorno alle 8 in entrambe, le direzioni a causa di un incidente avvenuto vicino al casello di Recco, al chilometro 21 in prossimità di uno scambio di carreggiata. Coinvolta solo una vettura, per fortuna senza feriti gravi. In corrispondenza del sinistro si è fermata una coda di 6 km in direzione del capoluogo Ligure tra Genova, Nevi e Recco. Altri 4 km di coda sono stati segnalati in direzione di Vono, tra Rapallo e Recco. Nel corso della mattinata la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Sul luogo dell'evento sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno arrestato due uomini per detenzione illegale di droga. A finire in manete sono stati un 49enne di Lavagna e un 42enne di Chiavari. Mentre viaggiavano insieme a bordo dell'autovettura di uno dei due, sono stati fermati dai militari impegnati in un posto di blocco tra San Salvatore di Cogorno e Mezzanego, lungo la strada provinciale 586. Alla richiesta dei documenti rivolto loro dai carabinieri, i due uomini hanno manifestato evidenti segni di nervosismo che hanno insospettito i militari, inducendoli ad approfondire nella causa. È stato così che nei loro confronti è scattato una perquisizione personale e veicolare, che ha avuto esito positivo. Infatti, occultato in uno dei calzini del passeggero, è stato trovato un involucro in celofan, sigillato con del nastro isolante contenente 27 grammi di cocaina, mentre in un massupio c'era un sacchetto contenente della sostanza da taglio. Invece, in una cassetta di attrezzi, è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, normalmente utilizzato per la pesatura della sostanza. La perquisizione domiciliare, eseguita subito dopo, presso l'apitazione di uno dei due, ha permesso di rinvenire altri 6 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. Sequestrati anche 300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il lavagnese e il chiavarese sono stati condotti presso la caserma dei carabinieri della compagnia di Sestere e Levante, dove sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, finalizzata allo spaccio. In serata, sono stati portati nel carcere di Marassi a Genova, a disposizione del pubblico ministero. Sono terminate le procedure di affidamento dei lavori di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e degli impianti tecnici dello stabile di Corso Brizolare a 5 a Chiavari, al cui interno trovano sede il commissariato di pulizia e il distaccamento di pulizia stradale. L'operatore economico giudicatario è Progresso Group di Agrigento. Le operazioni di ristrutturazione ed efficientamento energetico della struttura di proprietà comunale sono attese da anni. Dalla sua costruzione non sono mai stati eseguiti interventi così radicali di rinnovo e ottimizzazione dei consumi. Un importante risultato che permetterà una maggiore vivibilità degli ambienti e minore spese di gestione, spiega il sindaco di Chiavari Marco Di Capua. Il costo complessivo dell'opera è di 903.000 euro, ma grazie alla ricerca di finanziamenti che ho seguito in prima persona costerà alle casse comunali solo 113.000 euro. Infatti la Filse ha erogato un contributo a fondo perduto di circa 586.000 euro, mentre il GSE di circa 202.000 verrà rifatto l'impianto di riscaldamento. Installati i pannelli solari termici e fotovoltaici, realizzato una nuova facciata ventilata e sostituiti i serramenti. Si proseguirà, conclude il primo cittadino, con l'isolamento termico del garage e la realizzazione di nuovi controsoffitti. L'amministrazione comunale di Rapallo ha approvato il progetto per la messa in sicurezza della spiaggia del Castello dei Sogni. A causa della mareggiata del 29 ottobre 2018, infatti, la renile presenta problematiche legate a cedimenti strutturali di muri e scala. Quest'ultima passerà dai attuali 90 a 120 centimetri, per migliorare la fruibilità e aumentare il livello di sicurezza. Il progetto prevede inoltre la sistemazione della fascia nel versante di sestati mediante potatura delle alberature esistenti e ripiantumazioni. Allo studio, per il futuro, ci sono interventi di messa in sicurezza anche in mare. Le opere prevedono il fedele ripristino dello stato dei luoghi nella condizione precedente alla mareggiata di ottobre 2018, dice l'assessore comunale ai lavori pubblici Filippo Lasinio. E sarà di nuovo accessibile per la prossima estate la spiaggia dei Archi a San Michele di Pagana, interdetta dalla mareggiata di due anni fa. La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto, definitivo ed esecutivo, che prevede il rifacimento del muraglione di contenimento lungo la strada di San Michele e del moletto portato via dalle onde. Si tratta di lavori per 351.000 euro finanziati con fondi di protezione civile regionale. Siamo qui in Viale Casman, abbiamo installato e inaugurato oggi il sedicesimo defibrillatore in luoghi pubblici. Abbiamo creato una rete capillare salvavita in tutto il nostro territorio, siamo qui in una zona strategica, siamo al confine con Lavagna, siamo qui in un quartiere cosiddetto periferico, lungo Lentella, dove tanta gente viene anche a passeggiare. Il prossimo, la settimana prossima, stiamo completando le pratiche, verrà installato sempre lungo il fiume, però più a monte, vicino a Caperana. Quindi una rete capillare salvavita, perché la tempestività, in caso di arresto cardiocircolatorio, è fondamentale. Dopo la prima battaglia contro il virus che abbiamo vissuto, quella che abbiamo di fronte è una sfida non meno insidiosa, che nessuno può vincere da solo. Questo lo dobbiamo dire e ripetere in modo forte. Il settore del commercio, le imprese industriali, i lavoratori dipendenti, i professionisti, le istituzioni tutte, ma anche i singoli cittadini, devono fare sistema, devono fare squadra. Siamo però consapevoli del fatto che la profondità della crisi richiede un sostegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sempre è fatto. Ci troviamo all'interno evidentemente di una congiuntura storica ed economica nella quale si proporranno nuove, diverse eguaglianze che la politica dovrà contrastare. L'ho detto anche chiaramente ai sindacati confederati che abbiamo incontrato l'altra sera. Dobbiamo essere consapevoli come governo che si stanno creando nuove diseguaglianze. Ci sono delle fasce assolutamente, diciamo, che godono di una maggiore protezione che in questo momento, fasce sociali, riescono anche ad accumulare un maggiore risparmio rispetto al passato. Pensiamo a dei pubblici impiegati, ad esempio. Riescono ad organizzare meglio le proprie attività di vita con lo smart working, rimanendo a casa, lavorando, assolutamente sì, ma nello stesso tempo con maggiore autonomia, risparmio di spese per quanto riguarda, e anche di tempo per quanto riguarda i trasferimenti. Nello stesso tempo però ci sono invece altre categorie di operatori economici, settori della popolazione, che sono in forte emergenza, forte sofferenza, perché l'impatto della pandemia interessa in modo particolare tutti coloro che non hanno un reddito fisso, come le partite IVA, piccoli imprenditori, i professionisti, i quali oltre a soffrire quindi la perdita di fatturato, devono sostenere anche costi fissi elevati e spesso difficilmente comprimibili, anche di questi tempi. Penso in particolare ai ristoratori, tutti gli esercenti che svolgono la propria attività locale in affitto, quasi il 60% del totale delle attività del settore. L'affitto in particolare è un costo importante, gravoso, soprattutto per chi opera in aree che sono simultaneamente tra le più esposte alla crisi, tra le più costose anche, onerose, per quanto riguarda i canoni di locazione. Fra i punti di forza possiamo anche annoverare la tradizionale ingegnosità, creatività e il saper fare italiano, di cui i commercianti, artigiani, i professionisti italiani sono veri e propri ambasciatori, anche in tutto il mondo. Penso all'impegno quotidiano di tanti imprenditori, lavoratori della ristorazione, grazie a cui milioni di amanti del nostro paese, stranieri, ma anche italiani, hanno potuto vivere e apprezzare sin qui la bellezza delle città storiche, dei paesaggi rurali, gustando la ricchezza, l'abbondanza dei nostri sapori, dei colori della nostra cucina. Dietro ogni bar, ristorante, gelateria, pizzeria, ci sono passioni, professionalità, piccole, grandi, medie, elevate, da tutelare, da valorizzare. Ognuna di queste attività è in grado di dar vita, di ravvivare i nostri centri, produce benefici condivisi per l'economia di tutto il territorio e circostanze. quindi ognuna di queste iniziative economiche è in qualche modo patrimonio di tutta la comunità in cui si inserisce. Dobbiamo preservare questi patrimoni, queste comunità. Il settore dei servizi è uno dei pilastri dell'economia italiana, poiché rappresenta circa il 70% dell'occupazione italiana. Commercio e turismo in particolare occupano 5 milioni di lavoratori, costituiscono una fonte di domande essenziali anche per le filiere importantissime dell'agroalimentare, della pesca e di tutte le produzioni made in Italy. Al contempo, però, se dobbiamo ben riconoscere e quindi valorizzare i nostri punti di forza, dobbiamo essere consapevoli anche che abbiamo delle debolezze, dicevo, delle carenze, dei ritardi strutturali che gravano sugli stessi imprenditori e sui lavoratori. Penso all'intollerabile protrarsi dei tempi della burocrazia che sottrae energie preziose alle carenze delle infrastrutture di trasporto e quelle digitali. Con il dialogo e la collaborazione riusciremo a rialzare la testa, a riaprire la porta verso il futuro con fiducia e con determinazione. Grazie per la vostra attenzione. E' durissima la presa di posizione di REA, Radiotelevisione Europea Associate, ovvero l'Associazione delle Emittenti Locali dell'Unione Europea nei confronti del decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione di 50 milioni di euro complessivi agli organi di informazione radiotelevisivi come contributo straordinario per la divulgazione delle direttive e dei dati relativi alla pandemia Covid-19. nel mirino di REA sono i criteri con cui questi fondi verranno distribuiti tra le varie emittenti. Il 90%, ovvero 45 milioni di euro saranno assegnati alle 100 emittenti maggiori proporzionalmente alle loro dimensioni. Il restante 10%, ovvero 5 milioni di euro potrà essere distribuito tra tutte le altre emittenti che ne faranno richiesta purché abbiano almeno 8 dipendenti. Le restanti emittenti, ovvero tutte quelle con meno di 8 dipendenti che sono la stragrande maggioranza degli organi di informazione e radio televisivi italiani non potranno nemmeno presentare domanda in quanto esclusi a priori dal contributo. In altre parole, in pochissimi faranno la parte del leone, qualcuno si dividerà alle briciole e altri, ovvero la maggior parte, non avranno diritto neppure a quelle. Premesso quindi che le problematiche derivanti dalla pandemia Covid-19 investono tutte le emittenti a prescindere dal numero dei dipendenti, nei criteri di valutazione previsti dal decreto non è minimamente preso in considerazione se un emittente sta informando durante il notiziario su dati, problematiche, emergenza e tutto quanto sta accadendo nel territorio di propria competenza relativamente alla pandemia in atto. L'unico criterio adottato è quello che potrebbe essere definito come la legge della giungla, ovvero il grande mangia il piccolo. Le piccole emittenti però non intendono accettare il fatto compiuto e attraverso la loro associazione denominata REA hanno diramato un comunicato dai toni estremamente duri in cui il decreto viene definito criminale. Nessuno doveva essere lasciato indietro afferma il comunicato eppure mentre ben 900 piccole e medie radio e televisioni rischiano il fallimento per l'azzeramento della pubblicità il Ministero dello Sviluppo Economico assegna per la campagna coronavirus decine di milioni di euro a poche privilegiate tv. Il costo medio per ogni spot a carico dello Stato prosegue la nota di REA è di 335 euro una cifra astronomica che fa felici gli amici e gli amici degli amici. Con questa operazione conclude REA la lobby della comunicazione confindustriale ha messo le dita nella marmellata. previsioni per domani venerdì 20 novembre fino al mattino nubi medio-alte con possibili deboli precipitazioni sereno ovunque dal pomeriggio venti forti o di burrasca da nord al mattino con raffiche fino a burrasca forte sui rilievi centrali imparziale attenuazione nel pomeriggio nuovo rinforzo da non rest in serata mare generalmente mosso localmente mosso sui capi esposti di ponente in calo fino a poco mosso a levante fino ad agitato a largo umidità su valori medio-bassi le temperature previste sulla costa tra 10 e 15 gradi nell'entotera tra 3 e 12 gradi oi oi l'on oi oi l'on oi Grazie a tutti.